Noi siamo stati vittime di questa vicenda, non siamo i carnefici di questa amministrazione, deve essere chiaro, è stato leso un nostro diritto, noi rivendichiamo i diritti dei cittadini, chiunque essi siano, che si chiamino LAM, si chiamino PDL o si chiamino PD, noi non abbiamo santi in paradiso che preparano dei decreti in poche ore per poter riammettere le liste, noi abbiamo fatto quello che prevedeva la legge italiana, noi siamo rispettosi delle leggi, se ci avessero detto alla fine di questo percorso che non eravamo ammessi, avremmo preso atto di ciò, ma oggi qualche d'uno ci vuole crocifiggere per questo? Dialogo a casa o al voto? O il dialogo oppure si va al voto, non vedo altre strade, non mi sembra che ci siano altre soluzioni da poter percorrere, mi sembra ovvio, o qualcuno magari vorrebbe che noi, tu Kurt, rinunciassimo al nostro ricorso? Beh, lo avremmo fatto prima risparmiando probabilmente svariate decine di migliaia di euro. Quindi rifarebbe tutto ad oggi? Io rifarei esattamente quello che ho fatto perché questa è una battaglia di civiltà, è una battaglia di un sacrosanto diritto che qualsiasi cittadino dovrebbe eventualmente intraprendere qualora si trovasse nelle nostre stesse condizioni. Lei venerdì deciderà se andare avanti o no? Quindi da qui a venerdì c'è l'ipotesi che si incontrerà? Da qui a venerdì mancano ancora diversi giorni, abbiamo tre giorni, credo che se la montagna non andrà da Maometto, Maometto andrà alla montagna.